Edio! Andiamo davanti, no? Da stamattina lui. Cioè, noi, altro che Rai, il posto è in prima fila. Oh, si scivola. Oh, attenzione, mamma mia. Ha detto che non piove, comunque, Nadia. No, non piove, sapete. Aspetta, li apro lo sportello. Vieni, mi corri, corri. Andiamo, Nadia! Andiamo, Edio! Vai, Nadia! Allora, ma lì tu le bella macchia ce l'hai? Si, no. Grazie.